Musica Amici di Atisport24, benvenuti ad una nuova puntata di Due Metri, la pallannuoto vista da vicino. Abbiamo il piacere di avere oggi con noi l'attaccante dell'equipo Orizzonte Catania, Arianna Garibotti. Ciao Arianna, benvenuta, grazie per la tua disponibilità. Ciao a tutti, grazie a voi. Quale eredità vi ha lasciato il pari ottenuto nel match casalingo contro l'antenore plebiscito Padova? Match che ricordiamo l'ha stancito il primo posto della formazione veneta nel preliminary round scudetto. Sicuramente ci ha lasciato una consapevolezza di cosa dobbiamo migliorare, cosa è andato bene e dove possiamo arrivare. Riprendo spunto nella mia analisi da una frase letta nel comunicato post-gara, una dichiarazione del vostro presidente Tania Di Mario. Senza addentrarci nei dettagli, la stagione di quest'anno dell'Orizzonte potremmo dire che è stata anche una sorta di all'inferno e ritorno. Avete avuto delle notevoli difficoltà, dalle quali state gradualmente risalendo, come ben testimonia, la vittoria in Coppa Italia. A che punto è questo percorso di rinascita? Eh, a buon punto direi, no? Come tutte le squadre, si hanno degli alti e si hanno dei bassi. Noi ci stiamo riprendendo, abbiamo iniziato già, come hai detto tu, in Coppa Italia e ci stiamo mettendo tutte le nostre forze e tutti i nostri mezzi disponibili per arrivare a raggiungere l'obiettivo più grande della stagione per noi che è il campionato. Quali sono, lo hai accennato prima, il risultato della partita col Padua che ha lasciato anche la consapevolezza di ciò che bisogna migliorare? In vista di quella che poi è la fase decisiva dell'annata con le partite di play-off, dov'è che questa squadra può ancora crescere? Ma non si smette mai di crescere, sotto tutti gli aspetti, anche quelli che sono andati bene si possono sempre fare meglio. Io la penso in questo modo. Quindi siamo sulla strada giusta, cioè continuare ad attaccare in maniera ordinata, difendere bene, belle compatte come abbiamo fatto e lasciare solo le soluzioni più difficili agli avversari, non quelle più semplici. Che cosa significa, lo chiedevo in una precedente intervista a Carolina Ioannu, per una squadra che lotta per il vertice e che ha comunque tante individualità di valore, poter contare nelle partite magari in cui si deve lottare punto a punto su un portiere del calibro di Giulia Gorlero? Eh beh, fa tanto. Cioè, il portiere è il giocatore più importante, secondo me. Se hai un portiere forte, già sei messo bene. Io penso che Giulia Gorlero sia il nostro valore aggiunto a questa squadra, la nostra stella. E se noi la proteggiamo nel modo giusto, lei ci aiuta. Anche quando noi sbagliamo, lei ci metterà una pezza. Risposta che ti accomuna a quella precedente. Quindi si vede che è proprio un sentire comune del vostro gruppo sapere di avere una sorta di salvatore della patria nei momenti di difficoltà. Assolutamente sì. Osservando le vostre partite, mi concedo un paragone un po' calcistico. Quando riuscite a recuperare palla, a sventare l'attacco avversario, tu mi ricordi un po' il playmaker del calcio. Posso tentare un paragone con quello che è stato l'attuale allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, come giocatore. Cioè, la giocatrice deputata a tessere la trama. Che cosa vuol dire questo in acqua? E quali doti deve avere chi poi si disimpegna in questa, diciamo, posizione così delicata? Oltre permettimi di ricordarlo ad avere un tiro al fulmicotone che lascia partire autentici siluri. Però... Grazie, grazie. Sicuramente il mio ruolo è un... A me piace da morire. È un ruolo bellissimo perché comunque hai una grande fiducia da parte del tuo allenatore e delle tue compagne. Perché comunque ti mettono in mano la palla dove poi tu devi decidere dove va questa palla e a chi va soprattutto. Sei un po', in un certo senso, la mente dell'attacco, no? Il cervello. Il cervello, perché tutti i palloni passano più o meno dalle tue mani. Quindi è una bella responsabilità, ma è molto divertente. A me piace. E... Provo a fare la parte dell'avvocato del diavolo. Ma quando le avversarie francobollano Arianna Garibotti, poi c'è il cervello alternativo? Oppure si entra un attimo in crisi? No, 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 no. Ci sono, ci sono. Tutte siamo molto brave a capire il gioco e a trovare la soluzione giusta. Sicuramente dalla parte avversaria è naturale che magari vanno, come facciamo noi, vanno a spegnere la mente della squadra. Però noi abbiamo tante giocatrici di alto livello, siamo tante giocatrici di alto livello e quindi la soluzione ce l'abbiamo. Certo. Cioè se non sono io è qualcun altro accanto a me che pensa al posto mio o che fa il passaggio decisivo. E questo della duttilità e della versatilità è sicuramente un vantaggio, soprattutto adesso che, ripeto, si avvicinano le partite dal non ritorno. In una stagione che sicuramente è stata particolare per tutta una serie di motivi, sia sportivi che extrasportivi e sui quali non intendo nemmeno ritornare. Però ti chiedo, condividi l'idea che per dare visibilità, per promuovere la pallannuto femminile italiana, si torni a disputare la fine del torneo con la formula dei play-off? E faccio un esempio, si giochi più di un Orizzonte Sist Roma, più di un Padova Sist Roma o di un Padova Orizzonte, per cercare di ritestare la passione degli sportivi verso questa disciplina? Sicuramente quest'anno è stato un campionato molto particolare, diviso in due gironi, addirittura noi non ci siamo scontrati con squadre del Nord. Penso che le finali Scudetto, al meglio delle 5, al meglio delle 3, le semifinali, sia il giusto inizio per far sì che il nostro sport inizi ad appassionare gente che non ha mai visto la palla a nuoto. Perché la palla a nuoto non è uno sport conosciuto, quindi qual è meglio il parco scenico che abbiamo se non le finali Scudetto? Al meglio delle 5 e le semifinali al meglio delle 3. E proprio da prologo a quelle che saranno le semifinali Scudetto, funge il prossimo e ultimo turno di campionato. Vi attende la sfida casalinga contro la Lifebrain Sist Roma, in quella che ormai potremmo definire un'autentica saga degna di guerre stellari, se ho calcolato bene. Siamo al sesto episodio stagionale, poi vi dovete incontrare per le semifinali Scudetto. Premettendo che mi viene spontaneo dirti, ormai non ci sono più segreti, o giù di lì tra di voi vi conoscete praticamente a memoria, ma che partita sarà la prossima? Sarà una partita tosta, una partita tosta perché, come hai detto tu, siamo alle porte delle partite dentro o fuori, e quindi ci sarà la voglia di lasciare un bel ricordo per affrontare poi le partite importanti. Sarà una partita molto fisica, con molta tattica, sia in difesa, soprattutto in difesa, e niente, sarà una battaglia. Sarà una battaglia. Io voglio chiudere la nostra chiacchierata con un'ultima domanda. Gli accoppiamenti delle semifinali prevedono Antenore, Plebiscito, Padova, Vetro, Carci, SS, Verona, e appunto la sfida tra l'equipo di Zonta e l'FBrensis, Roma. Le capitoline, a tuo avviso, hanno le carte in regola per scompaginare i pronostici, o come si dice in gergo spesso tecnico, far saltare il banco? Oppure possiamo già affermare che Padova e Catania si sfideranno nuovamente nella finale Scudetto? Allora, arrivati a questo punto siamo tutte squadre di alto livello. È vero che ci conosciamo, ma come noi conosciamo loro, loro conoscono noi. Io penso che non ci sia nulla di scontato, specialmente quando poi vai a giocare partite importanti, partite che pesano, partite dove il risultato vuol dire qualcosa. Penso che non ci sia nulla di scontato. Noi faremo di tutto per far sì che ci arriviamo noi in finale, però secondo me niente è scontato. Quindi una serie, prevedi anche l'opportunità che ci possa essere una serie aperta che si risolva la terza partita? Assolutamente sì. Va bene, siamo giunti al termine della nostra chiacchierata. Ringrazio Arianna Garibotti per essere stata in nostra compagnia e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao Arianna, grazie. Ciao, grazie. Grazie.